Salve a tutti ragazzi e bentornati qui nel canale, sempre Futur Manager, sempre Carriera con il Bari, veniamo da un pareggio con il Cagliari 0-0, puntata pubblicata nell'altro canale quindi andateci a occhiare e iscrivetevi per non perdervi nulla e oggi stiamo con il Genoa che non perde da 6 partite, giocano con un 4-4-2 maledetto, ragazzi non so se giocarmela così, prudente in contropiede, in trasferta, però poco, lo stesso parlo, il Genoa prima o poi il gol ho propositivi con coraggio a pressarli alti, ti giuro non lo so, mi sa che la faccio così raga, la faccio così poi al massimo cambiamo in quel modulo, sposto, intanto i giocatori sono gli stessi, intanto i giocatori sono gli stessi, certo colpato qua non può farlo, perché no? Sì, confermo, vai, 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 vai Tossissima, voglio rimanere, la pressione è tutta assoluta, cosa abbiamo dovuto andare, andate stupite tutti Vediamo Bani, Dragosin Ah, ecco Pressione, Baldanzi Ah, è cala Ah, cazzo, c'era quasi Faloruncio, che bua Infirmabile Uh, la spara in aria, va bene, incoraggio Io non sono con la, c'ho la colpa Mezzanoli Uh, Caprile col piede Calcio d'angolo Cazzo Occhio Bravo, Falorun Bravo, Falorun Cambio tattica, regà Già cambio tattica Cambio modulo Eccala Uh, punizione magistrale Caprile Caprile, Caprile fondamentale Ci tiene ancora in partita, dai, dai Non subiamolo su angolo, eh Non subiamo su angolo Bravo, che dì Uh, di pochissimi vicino al gol, ragazza Ma subì tantissimo Vediamo che Con questo cambio tattico Se cambia qualcosa Però forse gliel'abbiamo meschiato Un tiro, non so quando l'abbiamo fatto Forse con questo cambio modulo C'è un po' più di Bari Vediamo Somma, Zanoli Dai, forse, regà Ah, Falorun Non ho sbagliato Bravi Vai Ricci Bello Bello Con coraggio In trasferta Vai Falorun Scarica Mmm Va bene Mazza 13 falli E 10 Da parte mia Nel primo tempo Se siamo menati Se siamo menati Meglio loro Ma sembra che qualcosa sia cambiato I vostri sforzi mi riempiono Andiamo avanti Così che possiamo vincere Dai, crediamoci Diciamo di che così Ancora non faccio cambio Ricci 6 e 4 Però malissimo, regà Eh, c'ho qualche 6 e 5 Oddio, il cambio modulo Ha portato solo brutti voti Ecco là Dobbiamo mergol Bravo Che interventone Ah, poco coraggio Poco coraggio Pallaccio di Ricci Entra Pugino Al posto di Ricci Che sta in netta difficoltà Salsedo Salsedo Che può spaccare la partita Insomma Ammonito Mi preoccupa un po' Certo doppio cambio Prima che battono la punizione E Cepurgano Sicuro No Attenzione E che ce la fanno vedere Ottimo Meglio così Incoraggiamo Carciò d'angolo nostro Attenzione Metti la bella palla Baldà Vai Antenucci Niente Antenucci Vai che dì Dentro ancora Antenucci Che mezzo dorme nell'aria Mezzo dorme Anche loro stanno a cambian botto Ah, cioè 4-2-4 Attenzione Attenzione Che questi Minchia regà Minchia regà Eh, ho fatto un po' di cambi Di nuovo Sono ritornato in quel cazzo di modulo Sta partita è veramente Una partita a scacchi Guarda come cazzo Si sono messi loro Vai ancora Attenzione La palla rimane lì Vai Somm Sostira Alto Cazzo Cazzo Però dai Si combatte Stiamo lì L'importante è non perde Certo Certo Dopo i reggi dei fili Mi farebbero Roro del culo Maiello dentro Per Terranava Oddio Oddio Ci stiamo Ci stiamo provando In tutti i modi Attenzione Arriva il cambio 6-3 Antenucci E' arrivato il momento Di Denbasek Vai Denbasek Risolviamo la te Che potrei impazzire Potrei Folloruncio 6-4 Ma Sti due Strottmann Ci hanno Ti mettono in mezzo Ti fanno più abbrutti voti Io C'avevo un bel voto Oh Folloruncio Ancora Combatte però Io sono per Puccino Ah Metti in mezzo Puccino Entra dentro Dire Che cosa è successo Josef In angolo Che è successo Sai che si trova In fuorigiò Che è 86esimo 87esimo Ancora il Bari però Vai Follorun Bravo Follorun Bravo Follorun Ti rotto No Salcedo Ancora io Se para Si rimettono 4-4-2 Loro Che è successo No Mi si è rotto Salcedo Non posso fare più sostituzione 1-2-3 Perché no No Non posso fare più sostituzione Giustamente In 10 Vabbè è finito Arbitro Arbitro Prudente All'ultimo Guardate Armo dentro Puccino fuori Dai E non fischia Allora Lancia Ti ho contro piede Ho ti ho contro piede Arbitro di merda Arbitro di merda 0-0 Che Tutto sommato Va bene Un Bari in salita Che ha avuto un po' Più di coraggio Peccato Peccato Però va bene Salcedo è infortunato 4 settimane Due mesi Stiramento Linguine Gravissimo Porca troia E noi stiamo ancora lì Dai 14 punti Prossima partita Con l'Ascoli Che sta messa pure Malissimo In Serie B In classifica Sta a 19 Quindi Raga Dobbiamo vincere Stiamo anche in casa Mi aspetto i 3 punti Video che raga Vedremo nel canale Nel secondo canale Di sold out gaming Quindi raga Bella e grazie a tutti